Grazie a tutti. Arriviamo alle conclusioni di questo lavoro, comunque saranno pubblicate sul notiziario integralmente a novembre-dicembre credo, adesso non so quando esce. All'inizio ci siamo posti due obiettivi, il primo era scattare una fotografia della situazione e dello stato attuale della presenza della psicologia e degli psicologi nelle case di cura psichiatriche private accreditate del Lazio. Il secondo obiettivo che noi ci siamo posti dall'inizio è quello di creare una rete di relazioni tra tutti gli psicologi che attualmente operano in queste strutture e anche, ma questo è un passo successivo, di creare una rete di collegamento con gli psichiatri, con gli assistenti sociali, con i terapisti della riabilitazione, cioè avere un luogo dove ci si possa incontrare e si possa riflettere sul modo di lavorare insieme. Vediamo da questa fotografia veramente in sintesi cosa è venuto fuori. La prima cosa sembra scontata, ma non lo è, che gli psicologi e la psicologia sono presenti in tutte le case di cura psichiatriche del Lazio. La seconda evidenza di tale fotografia è stata che questa presenza è cresciuta in maniera esponenziale in questi anni, ma è iniziata sempre per meriti individuali, per singole esperienze, piuttosto che per una ricerca specifica di competenza, che per una richiesta di ruoli. È iniziata così, in maniera abbastanza naiffe, cioè non è stata progettata né guidata. Un'altra cosa che viene fuori da questa fotografia di queste 12 case di cura psichiatriche è che il lavoro che svolgono gli psicologi all'interno di queste case di cura è abbastanza simile. Questa abbastanza l'ho tenata apposta perché non è del tutto uguale. Spesso, questo è interessante anche, il Presidente non c'è più, questo è un lavoro specialistico, chiamiamolo di psicoterapia o di altri tipi di intervento clinico, e non di psicologia di base. Non mi sento lori, peccato, perché questo è un tema molto delicato. Cioè, da una parte la legge prevede la presenza della psicologia, dall'altra le figure realmente che sono presenti sono persone che si sono specializzate successivamente alla laurea in psicologia. Nelle diverse case di cura non esiste ad oggi una organizzazione interna condivisa tra le case di cura. Alla Samadhi siamo un servizio di psicologia definito e organizzato, con un nostro anche modello di organizzazione. In altre case di cura ci sono singoli professionisti che lavorano su richiesta dei medici o della direzione. Quindi non si è sviluppato in un modello unico di intervento. Una cosa molto carina, che voglio dire, che è molto importante, è che gli psicologi sono mediamente soddisfatti del loro lavoro, sia a livello professionale che personale. C'è un grosso livello di soddisfazione per quello che gli psicologi sentono di fare come professionisti. C'è un basso livello di soddisfazione per quanto riguarda gli aspetti economici, contrattuali. Prima Lori sottolineava che alcuni di noi lavorano a 12 euro l'ora l'ordi e questa è una cifra veramente, per alcune persone, molto pesante. Molto pesante sia oggettivamente sia per mantenere l'entusiasmo, la voglia, le spese anche, come incentivo esattamente. Un altro aspetto molto importante che io voglio portare sia alla regione, sia alle direzioni che alle proprietà, è che c'è una bassa attenzione nel monitorare, garantire e proteggere alcuni aspetti del lavoro. Cito due esempi e mezzo. Uno che riguarda la formazione e gli aggiornamenti, uno che riguarda la supervisione. Non esiste nessuna struttura che organizza o sostiene le spese o l'organizzazione di momenti di supervisione e di momenti di formazione e aggiornamento. Sono tutte a carico dei professionisti, ma non è soltanto il problema economico che sono a carico dei professionisti, è che sono a discrezione dei professionisti. E questo è un livello bassissimo di protezione, perché chiunque lavora nella relazione con l'altro ha il dovere etico, qui torniamo ai temi etici di cui parla Valori, di confrontarsi con gli altri su questo. Questo non viene chiesto. L'altra cosa che volevo aggiungere, l'analisi personale, ma su questo c'è una polemica nazionale molto forte, ma secondo me dovrebbe essere un elemento indispensabile per chi lavora come psicologo o terapeuta nelle case di cura psichiatriche. Dal punto di vista etico non vi sono punti di vista esplicitamente condivisi. Questo è molto curioso, perché noi lavoriamo nella relazione, lavoriamo attraverso la relazione con l'altro e quindi è evidente che i miei valori, che i valori che mi guidano nel lavoro con l'altro sono fondamentali, perché la relazione è proprio lo strumento che cura. In un confronto che abbiamo avuto con tutti i colleghi sugli aspetti etici, viene data valore all'aspetto etico, ma i valori poi sono diversi. Non è facile esplicitarli, non è facile rifletterci. E questo credo che dovrà essere un nostro lavoro successivo, perché è un aspetto molto importante. C'è la ricerca, il bisogno di un linguaggio di base condiviso. L'altra cosa importante che volevo dire è il secondo punto, cioè quello di creare una rete. Io credo che questa rete sia stata creata. A volte abbiamo zoppicato, ma insomma ce la stiamo facendo. Gli incontri di cui ho citato. È stata creata una mailing list per tutti gli psicologi che lavorano nelle case di cura psichiatriche, il che vuol dire che se io ho un dubbio, ho un bisogno, cerco un'informazione in un modo veloce, non riusciamo a scambiarci. C'è l'idea di organizzare giornate formative comuni, cioè di avere sia gli ECM, ma proprio di formazione, di aggiornamento, di organizzarci tra noi, che è un modo di armonizzare gli scambi nelle diverse case di cura. E poi c'è una cosa che è piaciuta tanto alla stampa, che sta andando per la maggiore, cioè sono usciti questi comunicati stampa in questi giorni con questo titolo. Finalmente una cartella clinica di psicologia unica per tutti i pazienti psichiatrici del Lazio. Questa notizia è stata abbastanza pompata. In realtà era un pezzo di questo progetto, ci sta lavorando anche Antonio Muzzi in particolare. Però è curioso come a un certo punto una cosa di stampa prende il sopravvento e il progetto è diventato creare una cartella unica di psicologia condivisa. È un progetto bellissimo, ambizioso, forse impossibile perché siamo diversissimi, però ci stiamo lavorando anche su questo. Insomma, è divertente come un pezzettino del progetto è diventato un po' il tutto e quello che ha avuto una grossa risonanza. Sì, esattamente. Io credo che quindi la sintesi per me più bella di questo lavoro è il fatto, e poi parlo da psicologo, il fatto di essersi incontrati, conosciuti, di essersi visti in faccia e che da questa cosa è nato un luogo, un punto di incontro in quella che loro richiamo la casa della psicologia. Oggi la sento anch'io questa cosa. E cercavo un modo di finire questo intervento e è chiaro che un intervento va finito in una maniera abbastanza... Però la psicologia è qualcosa di molto semplice, di molto piccolo, di molto affettivo. E la cosa che più mi piaceva per finire questo intervento è una frase del piccolo principe, che probabilmente molti di noi conoscono, in cui si dice non si vede bene che col cuore l'essenziale è invisibile agli occhi. E credo che gran parte del lavoro degli psicologi è essenziale e anche se è invisibile agli occhi resta comunque essenziale e bellissimo. Grazie a tutti. Non voglio intervenire oltre, non voglio rubare tempo, però chiederei a voi di intervenire. Mi alzo, penso che ci sentiamo. No, 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 perché siamo in streaming. Ah, siamo in streaming, perfetto. Buonasera, io sono Giuseppe Ducci, dirigo un SPDC a Roma, al San Filippo Neri e sono anche il portavoce degli SPDC del Lazio, quindi in qualche modo rappresento i principali fornitori di pazienti delle case di cura del Lazio. Due dati per cominciare. Il Lazio ha la metà dei posti letto in case di cura psichiatriche di tutta Italia e la metà dei posti letto in SPDC di quelli previsti dalla legge. I due fatti sono collegati casualmente, non casualmente, ma causalmente e quindi credo che questo sia un aspetto su cui noi dobbiamo interrogarci. Se il nostro sistema sanitario, e qui l'assessore, anche se non è l'assessore, perché non abbiamo l'assessore della sanità noi, ma abbiamo un commissario, l'assessore, come dire, sa che questo è un dato che incide anche sullo stile del nostro servizio sanitario. Detto questo, però, io non voglio assolutamente, come dire, attaccare le case di cura, ma soprattutto non lo voglio fare in questa sede, perché mi sembra che invece l'iniziativa degli psicologi, di cui peraltro io sono personalmente amico di almeno tre di questo gruppetto, insomma, e da molto tempo, invece rappresenti un elemento fondamentale. Perché? Perché uno degli aspetti più pericolosi nel ricovero psichiatrico è quello della manicomializzazione. E la presenza degli psicologi in tutti i contesti, non dico che garantisce la non manicomializzazione, ma comunque diminuisce un po' il rischio, cerchiamo di essere onesti e non, come dire, onnipotenti. Però, ecco, questo è secondo me un aspetto fondamentale. da quando io dirigo l'SPDC, cioè da 16 anni, ho avuto più di 200 psicologi come tirocinanti, tra cui la stessa Antonella Mariannecci, per molti anni, peraltro. E quindi è un tipo di rapporto, di sinergia, di sintonia, che mi trovo assolutamente concorde. E credo che si possa anche superare questa tripartizione proposta da Pietro Romanelli tra i diversi tipi di psicologia. Io personalmente sono addirittura per superare la dicotomia psicologico-biologico, per cui vado anche oltre questo aspetto. Ma credo che all'interno di un contesto di cura la dimensione, diciamo, diagnostica, quella neuropsicologica e quella relazionale debbano essere tutti presenti e avere pari dignità e essere interpretati anche dalla stessa persona o dalle stesse persone in modo, come dire, intercambiabile. E mi sembra uno degli aspetti fondamentali della presenza dello psicologo anche per quello, forse c'è un altro aspetto che potrebbe essere evidenziato ed è il fatto che lo psicologo svolge una funzione non soltanto con i pazienti ma anche all'interno dell'equip. Cioè la funzione psicologica è anche all'interno del gruppo di lavoro e se il servizio di psicologia come ad esempio la Samadhi significa una separazione della funzione psicologica dal resto delle funzioni ecco questa è una cosa su cui interrogarsi perché potrebbe essere un vulnus. Secondo me lo psicologo deve essere pienamente integrato. due piccole notazioni sul lavoro che voi avete fatto che mi sembra molto interessante. Innanzitutto io sono portato diciamo per formazione a analizzare i dati c'è un famoso aforisma di un epidemiologo inglese che dice in God we trust all others bring us data cioè di Dio ci fidiamo tutti gli altri ci portino dati e credo che i dati siano poi l'elemento fondamentale per fare le riflessioni e c'è un dato che mi sembra un po' da rilevare cioè su 36 psicologi hanno risposto in 23 cioè un terzo non ha risposto. Questo mi sembra importante perché credo che un lavoro del genere debba coinvolgere tutti e il fatto che un terzo non risponda deve porre come dire un interrogativo anche sul fatto che l'aspetto della comunicazione dell'integrazione tra persone che lavorano nello stesso contesto debba essere messo tra gli obiettivi principali del vostro lavoro. Ma io andrei oltre nel senso che nei 22 SPDC del Lazio ci sono gli psicologi non in tutti però ci sono e ci sono anche situazioni come appunto quella che dicevo dell'SPDC dove io lavoro in cui gli psicologi sono anche di ruolo uno ma c'è una presenza costante sia di psicologi che lavorano sulla psicologia della relazione ma anche poi di ricerche in cui la dimensione neurocognitiva è fondamentalmente affidata agli psicologi cognitivi e quindi agli psicologi sperimentali che rappresentano una risorsa enorme per il servizio. Allora io credo che un'eventuale prosecuzione di questo lavoro non possa non coinvolgere anche gli psicologi che lavorano negli SPDC perché come dire il contesto del ricovero anche se diverso noi ci occupiamo prevalentemente di pazienti in fase di acuzia abbiamo tempi molto ridotti rispetto al ricovero debba però coinvolgerli è chiaro che lo psicologo in SPDC ha delle funzioni leggermente diverse ma non più di tanto e che lo psicologo in una casa di cura ripeto svolge soprattutto una funzione di diciamo di evitare soprattutto nei ricoveri prolungati perché non nascondiamoci che nelle case di cura oltre a un numero di pazienti che come dire hanno un turnover che è comunque più lungo di quello degli SPDC ma c'è ci sono dei pazienti che sono lungodeggenti e questi pazienti lungodeggenti che cosa hanno di diverso dai pazienti che stavano al Santa Maria della Pietà e che quali sono gli interventi e le relazioni che vengono messe in atto perché costoro non diventino come i pazienti del Santa Maria della Pietà ecco questa è una funzione che nell'SPDC non c'è anche se ci sono SPDC dove ci sono pazienti lungodeggenti e ci sono progetti specifici per questo però credo che attuare questa separazione rischi di essere fuorviante il sistema di ricovero psichiatrico nel Lazio si basa su questi due elementi che sono gli SPDC e le case di cura e la funzione psicologica deve essere vista in una prospettiva a mio avviso unitaria a mio avviso